Ah, è bello, no? Custa l'USB wine è una roba da attraverso la testa e se vuoi, può vedere che la roba meravigliosa direte molto a tua e adesso guardiamo se funziona perché è una roba rivoluzionaria e mi è riuscita dal computer per il sito dove vuoi andare a voi e se vuoi, guardi più i bambini del mondo aggiorni a voi che vuoi e ti smicchi il botone e vuoi, vieni a fare la roba direttamente la bottiglia e per stampare anche l'etichetta wow, è proprio una roba da mattina